Ed eccoci qua finalmente per allenare l'ultimo chin look dedicato a voi. Non è l'ultimo chin look, i chin look totali sono 30, ma nel vostro programma e quello che per voi adesso serve per allenare, il 10 è assolutamente più che sufficiente, anzi siamo già molto avanti. Il 10, a differenza di quelli che abbiamo visto ultimamente, invece è solo e esclusivamente braccia, non utilizzeremo le gambe. È un po' lunghino, magari non ci starete a farlo dentro le vostre case, ma ci proviamo. Allora, il 10 si parte sempre in guardia e andiamo a eseguire subito, di partenza, un Dam Tang sinistro. Ok? Dam Tang sinistro, si avanza gamba destra e si esegue il Dam Lao destro. Si avanza ancora ogni passo una tecnica, quindi si avanza con la gamba sinistra Dam Muk sinistro. Si avanza nuovamente in gamba destra Dam Mok, che subito va a recuperare. Quindi con la stessa gamba vado a tirare il Dam Bua, rotazione di schiena, quindi si fa un passo, si gira e si esegue Cho Hai. Tecnica di gomito numero 2. Questo lo so, è un pochino complicato a lavorare, però è una bella sequenza sempre alternata con il lavoro delle braccia. Ok? Lo ripetiamo, cerchiamo di farlo lentamente, ricordarsi, a parte la penultima tecnica che si esegue sempre con la gamba destra avanti, le altre sono tutte alternate. Quindi, posizione di guardia, Dam Tang sinistro, Dam Lao destro, Dam Muk sinistro, Dam Muk destro, Dam Bua destro e Cho Hai sinistro. Tutto questo è abbinato, adesso lo ripetiamo, al movimento di gambe, quindi Dam Tang sinistro con gamba sinistra, Dam Lao destro gamba destra, Dam Muk sinistro gamba sinistra, avanzo Dam Muk destro gamba destra e subito Dam Bua destro. Io ti trovo in Dintan sinistro con Cho Hai sinistro, quindi ogni tecnica corrisponde alla gamba che ho avanti. Ok? Questo è molto importante. Bene, questo qui è un pochino più complicato, magari negli spazi di casa non è così facile farlo, ma potete farlo anche sul posto, si può lavorare sul posto senza fare troppi passi in avanti. Aspetto il video anche di questo qua, mi raccomando, allenatelo. Terminato questo siamo riusciti a fare un bel lavoro su tutto quello che sono il lavoro dei Chen Luke da 1 a 10. Dato che in questo periodo non possiamo allenare il tech a coppie, almeno impariamo tutte le parti individuali. Ciao ragazzi, buona giornata e aspetto i vostri video e mi raccomando, sempre in forma e allenateli nel vostro video. Ciao! 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 Grazie a tutti.